Grisigliano di Zocco è stato messo in fuga a bastonate dal titolare cinese di un bar del paese il malvivente che sabato notte intorno alle due e mezza ha tentato una rapina il volto coperto dal casco un coltello in mano alla richiesta dell'incasso immediata la reazione del barista che ha iniziato con il malvivente una breve lotta vista la malparata l'uomo è fuggito indagini sono in corso da parte dei carabinieri Schio ha rischiato di allargarsi alle case del Borgo in Contragavassi a Monte Magrè l'incendio sviluppatosi nel pomeriggio di venerdì in un fabbricato in ristrutturazione adibito a Fienile a evitare il peggio i vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e 11 pompieri che hanno operato con notevoli difficoltà data la strettezza delle vie ancora da stabilire le cause dell'incendio Brendola incidente la scorsa notte in via Palladio era passata da poco l'una quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per un Audi A3 che si è rovesciata contro un muro capottandosi miracolato il conducente uscito illeso dal mezzo sul posto anche i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l'incidente Tiene è finito con la sua auto contro una recinzione e un palo telefonico finendo la sua corsa in un campo agricolo protagonista un uomo di 58 anni di Villa Verla l'incidente è venerdì pomeriggio in via dell'aeroporto solo ferite lievi per il conducente sotto shock per il violento impatto la strada è rimasta chiusa per tre ore per consentire ai tecnici di ultimare le operazioni di messa in sicurezza del palo telefonico pendente sulla carreggiata i rilievi sono in corso da parte della polizia locale nord-est vicentino Grazie Grazie a tutti